Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Un videocorso quello di oggi dedicato ad una novità made in Italy, tricolore, bene sì, parlo di panquiz.com, sito di riferimento panquiz.com e a breve in arrivo anche le app per il mondo mobile. Questa web application come dal testo che ci accoglie non appena tramite il nostro browser programma di navigazione ci colleghiamo e ancora in versione preliminare beta e la provo direttamente con voi. La si deve al gran lavoro di Paolo Mugnaini, sviluppatore che già conosciamo per aver messo a nostra disposizione un'altra grande web application ispirata alla gamification, tutto sto action, cioè l'apprendimento in chiave ludica che è quest base, che però ora non è seguita nel suo sviluppo ed appunto prendiamo confidenza con panquiz. Molto carino questo testo, vedete? Una squadra di scimmie altamente addestrate è stata inviata per far fronte a questa situazione, cioè la versione preliminare. Clicchiamo su certo ho capito, clicchiamo su ho capito in rosa per dare il nostro consenso all'utilizzo dei cookies, cioè dei biscottini che in qualche misura, come probabilmente sapete, trattengono alcune informazioni quando noi navighiamo sui nostri siti internet ed eccoci qui in home page. Allora, un clic su iscriviti gratis se è la prima volta che posizionate puntatore e mani è su panquiz. Occorrerà cliccare su iscriviti adesso, e a quel punto occorrerà poi tramite una mail automatica che giungerà confermare il proprio account, dunque la propria identità. Questa procedura l'ho già fatta come nei migliori programmi di cucina ed ora vado dritto al sodo e faccio il login, cioè l'accesso tramite uno dei miei account di posta elettronica istituzionali. Vado a digitare la password che ho prescelto, accendo anche l'interruttore, ricorda la mia email, un clic su accedi ed eccoci nel cruscotto di panquiz. Ci sono alcuni esempi come possiamo osservare già pronti e messi a disposizione dallo sviluppatore stesso, ma io in realtà voglio provare a creare un nuovo quiz e quindi clicco su creapanquiz. Poi vado a impostare le voci necessarie. Allora, titolo. Riprendo un filone a me caro, come potete vedere nei vari miei videocorsi qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, e cioè un quiz ipotetico sulla storia di internet adatto per la primaria, tanto quanto per la secondaria di primo grado per tecnologia e non solo. Dunque il titolo è Scopriamo insieme la storia di internet con un bel punto esclamativo. Descrizione, e in questo caso la descrizione, tanto quanto le parole chiave, sono necessarie nella migliore ottica SEO, Search Engine Optimization, a fare che cosa? A farci trovare. Le parole chiave servono a questo in rete, per cui descrizione, un quiz per scoprire come siamo giunti nel tempo alla navigazione sul web che conosciamo oggi. Un altro bel punto esclamativo. Parole chiave separate da virgole e io provo a specificare. Internet, virgola, web, virgola, formazione, virgola, scuola, virgola, Andrea Cartotto, virgola. Ognuno di noi potrà poi indicare le parole chiave che ritiene opportune. Faccio un bel clic su opzioni aggiuntive per curiosare ed ecco qui le opzioni che ci servono e che ricordano alcune piattaforme probabilmente note ai colleghi più digitali. Mi viene in mente Kahoot, ma mi viene anche in mente Quisis e per esempio a Quisis ho dedicato un altro videocorso, sempre qui sul mio canale. Allora, inseriamo una immagine di copertina per l'intero quiz. Un clic su carica, come nei migliori programmi di cucina. Andando in download, io ho già preparato alcune immagini libere da diritto d'autore scaricate da Pixabay, uno dei siti leciti a cui attingere per la didattica. Ne parlo sempre in un videocorso dedicato qui. Clicco su questa immagine, clicco su apri, ecco l'immagine pronta. Domande in ordine casuale? No. Meno tempo aumenta il punteggio? Sì. Così diamo valore alla risposta corretta ma rapida. Musica di attesa? Nessuna. Ma io invece clicco sul mio menu contestuale, cioè un menu a discesa, la tendina, e vado a prendere, vediamo un po' Perception. Perception. Come sarà? Io faccio un clic sul mio bel play. Vediamo un po'. Sì, dai, può piacerci. Ho ancora un clic e metto in pausa. Lingua del panquiz. Clicco sempre sulla mia tendina, che vuol dire cliccare tanto sulle frecce quanto sulla voce, e vado poi a scegliere italiano. È molto interessante dunque per i BES e per chiunque abbia bisogno di un rinforzo vocale per la comprensione. Ecco, leggi le domande a voce alta, un clic sì. Proviamo con la voce di Pietro. Come avete visto, è prevista dalla piattaforma anche una voce premium, quindi evidentemente soggetta poi a piani aggiuntivi. Questo panquiz è pubblico? Sì. Un clic su salva. Andiamo alle domande. Vediamo un pochettino come funziona. Allora, domanda 1. In che anno è nato Inter? È nata, se la consideriamo rete, dai, al femminile. Allora, andiamo un pochettino a vedere. Risposte 1, 1969, che detto tra me e voi è la risposta corretta. Risposta 2, e 2.000. Un clic sul più. Incrementiamo a questo punto 1991. Vado a cliccare su opzioni della domanda e qui abbiamo la possibilità di inserire una copertina anche per la domanda. Io clicco su carica. Nuovamente ho una immagine già precedentemente scaricata. La clicco, poi clicco su apri ed eccola qui. Quanti punti voglio assegnare? Allora, io darei un 10 punti. Qua siamo nell'ambito della rubrica valutativa, anche per ciò che è la didattica online. Prevediamo sempre, io consiglio, unità a, diciamo, di modesta entità. Quindi come punti considererei 1, 5, 10 laddove sia possibile per andare a costruire poi una rubrica e raggiungere poi, quindi, un punteggio che sia assimilabile a una normale votazione che andiamo ad assegnare. Quanti secondi desidero per consentire la risposta? Diciamogli 30 minuti. Molto interessante, ad esempio, i 5 minuti che io vedo come intervallo di tempo per i BESS o nei casi in cui ci sia necessità di un tempo di apprendimento e decodifica della domanda più lunga. Adesso gli andiamo a dire, per esempio, un bel 30 secondi che mi par sufficiente. Vado a cliccare su salva. Impossibile salvare. Seleziono la risposta corretta. Bene, un clic su ok e in effetti facciamolo. Io voglio il 1969. Semplice questo contrassegno della risposta corretta. È una buona soluzione. Allora, a questo punto clicchiamo su salva e vediamo se l'operazione è considerata corretta. Ebbene sì, lo è. A questo punto, guardate, una domanda giocata, quindi da zero partecipanti, cioè da nessuno. Possiamo ancora modificarla. Mi piace molto questa interfaccia, cioè questo modo di proporre la schermata delle attività a mo' di card. Mi intriga la possibilità di vedere un modifica e gioca direttamente. Tra l'altro vedo, c'è un tecniche di vendita qui, ma è assolutamente normale che questo tipo di piattaforme, come sapete insomma voi che mi seguite, può essere modellata e resa dunque liquida per qualsiasi ordine di istruzione, ma anche nell'ambito della comunicazione e del marketing. D'altronde didattica è comunicazione. A qualunque livello la si faccia. Le parole hanno sempre un loro peso specifico. Bene, scopriamo insieme la storia di internet. Una domanda, ma almeno proviamo a giocare su questo quiz. Io faccio clic proprio sul pulsante azzurro gioca. Vuoi veramente avviare questo panquiz? I giocatori potranno partecipare collegandosi con un loro dispositivo mobile. Vabbè, io clicco su inizia a giocare. Clicca. Finestra del docente con un grande avvia. Clicca. Attendiamo l'elaborazione. Ed ecco qua come, diciamo, l'esperienza ci ha insegnato la possibilità di andare a giocare. Allora, io vi ho già mostrato questa tecnica, però per avere nello stesso momento docente e alunno, io vado sui miei tre pallini del browser Google Chrome, clicco nuova finestra di navigazione in incognito e digito proprio play.panquiz.com invio. Quindi ora sono alunno. Quest'azione avrei potuto farla con un dispositivo mobile, ok? Mi chiede il pin. Vedete, io mi posiziono piano piano con il puntatore sulla icona di Google Chrome. Vado a cliccare. Ecco, il mio pin è 276954 e io lo riporto. Quindi 276954 e faccio un clic su gioca. Vado a dare il mio nome come alunno. Marco C. Ho inventato. E un clic su inizia. Ottimo Marco C. Siamo pronti per giocare. Bello, per esempio, anche questo messaggio di accoglienza in lingua italiana. E attendi tutti i partecipanti e tra poco potremo iniziare. Vado dunque a cliccare su inizia e sul mio play avendo riscontrato e sposto un attimino il mio faccione che oltre a Marco C. vedo il numero dei partecipanti in questa piccola banda viola. Un partecipante. Clicco su inizia. Vuoi veramente iniziare il panquiz? Sì, inizia. Bello questo effetto. 3, 2, 1, hop. Siamo pronti alla partenza. Via. In che anno è nata internet? Niente male la sintesi vocale. In che anno è nata internet? A 1969. 2000. Bello, vengono anche lette le risposte stile Kahoot, eh? Tanto per intenderci. Per cui io in didattica a distanza mostrerei in condivisione schermo le domande. I ragazzi partecipano. Dai, vado a rispondere. Clic sul rosso. Ale. Esatto, la tua risposta è corretta. Belli anche questi effetti grafici. Tutti tipici della gamification. Principio di ispirazione americana che prevede la gratificazione per l'alunno e il partecipante. Colori, suoni e quant'altro. Esatto, la tua risposta è corretta. Vediamo un pochettino. L'alunno lo vedo fermarsi qui. Io ora sono nel mio panquiz docente. Domanda 1 di 1. Classifica. Vediamo un pochettino. Tanto guardo cosa c'è dell'alunno. Ecco, abbiamo terminato. Grazie per avere partecipato. Cliccando sulle stelline e do un feedback. Un voto. Ed ecco il mio posto. Argente e bronzo non se li aggiudica nessuno. Clicco su salta animazione. Vediamo un pochettino cosa ci offre la piattaforma. Ecco, gioca ancora. Punteggio termina. Clicco su termina. Vuoi veramente terminare e chiudere questa finestra. Tutti i partecipanti collegati saranno disconnessi. Si termina. Clicco. Andiamo un pochettino a vedere a questo punto. Allora, per l'alunno non c'è altra possibilità se non un chiudi in basso a destra. E siamo tornati qui. Quindi direi che la finestra dell'alunno tramite il browser la posso chiudere con X. So da Paolo che è in fase di sviluppo una sezione legata alla reportistica. Quindi a visualizzare report, dettagli e quant'altro. Però mi piace la facilità di utilizzo di questa piattaforma. Invito anche voi a provarla e a testarla in attesa dell'applicazione mobile. Curioso un pochettino sui tre pallini e vedo che con i tre pallini è possibile, ad esempio, cliccare su scarica PDF. Ed io, curioso, lo vado subito a fare. Vado a posizionare il mio file nei download. Vado a cliccare su salva. Apriamo un attimino in basso a sinistra la nostra versione cartacea PDF e vediamo come rimane. Sì, vedete, l'impaginazione è gradevole. In piano è nata internet. Domanda, risposta eventualmente da contrassegnare anche in forma manuale o magari, dico io, proponendo questo PDF sempre in dati che è asincrona o asincrona e tramite una modalità di scrittura è possibile contrassegnare anche le risposte. Chiudo con X. Insomma, una ottima idea, una ottima piattaforma didattica in arrivo che è in via di perfezionamento. Vi mostro cliccando sul mio AC Andrea Cartotto che cosa abbiamo. Vado un attimino indietro con questa freccia, vedete, in alto a sinistra dove c'è panquiz e in realtà questa freccia comprime e decomprime, quindi apre e chiude il menu con le varie funzioni. I miei panquiz, torno un attimino ad esaminare, se clicco sul triangolo rovesciato, questo è un triangolo, un pulsante di condivisione che però al momento non attiva funzione, molto interessante. Attendiamo quindi la reportistica, vedete che c'è un partecipante che ha effettivamente giocato, voto medio, quello dato dall'alunno prima, 5 stelle su 5 in termini di gradimento. Vado a vedere se su preferiti abbiamo qualche cosa, non c'è ancora un panquiz preferito, torno sui miei panquiz e insomma al momento una piattaforma ludico didattica molto interessante per coinvolgere gli alunni direi della primaria e della secondaria di primo grado, ma modulando i contenuti andiamo anche oltre, quando avremo una buona reportistica, quindi i dati per poter archiviare e tracciare i nostri giochi didattici, ecco che avremo, diciamo, raggiunto la quadratura del cerchio. Per cui, bravo Paolo, lieto di aver recensito e testato per voi questa soluzione didattica nuova, non resta che effettuare una prova pratica su strada da parte vostra e ancora un caro saluto da Andrea Cartotto. Ci rivediamo qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea.